Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. In questi giorni così difficili per il costo e l'indipendenza energetica, anche la sanità marchigiana cerca di risparmiare e lo fa investendo i lavori di efficientamento sulla struttura ospedaliera del Mazzoni. L'ospedale di Ascoli Piceno vedrà entro il 2022 sostituire tutte le finestre che occupano gran parte delle facciate. Tutto ciò per evitare dispersioni di calore, ma anche nell'ottica di un migliore ricircolo dell'aria. È il direttore dell'Area Vasta 5, Massimo Esposito, a presentare i lavori finalizzati alla riduzione dei consumi da fonti energetiche non rinnovabili. Allora, l'ospedale di Ascoli oggi sta vivendo un momento di revisione del suo stato sotto il profilo dell'efficientamento energetico. Sono stati avviati i lavori per un progetto di risistemazione dell'ospedale che prevede la sostituzione di tutti gli infissi e anche la sostituzione delle unità di trattamento dell'aria che abbiamo visto che sono indispensabili specialmente di fronte dei fenomeni epidemici come quello che stiamo tuttora attraversando del Covid. Si è partiti dal sesto piano dove sono già visibili le impalcature che man mano andranno a coprire l'intera struttura. Insomma, il Mazzoni si rifà il look per avere un ospedale sempre più green. Questo è l'obiettivo della Regione Marche che ha investito una cospicua somma in questa operazione di restyling e che interverrà in futuro anche dal punto di vista della sicurezza antisismica. Quindi è un lavoro che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno secondo il piano dei lavori presentato e il costo complessivo sono circa 3 milioni e 800 mila euro.